Ce l'abbiamo fatta, finalmente è arrivato il messaggio, quello tanto atteso, quello con il modulo che ho promesso durante la diretta live di martedì sera, la diretta di Combo Night e ti informo che molto probabilmente, visto il successo di questa diretta, ce ne saranno altre, magari non su Canne Molinelli ma su altri prodotti Ok, adesso però focalizziamoci su ciò che è qui dietro a me, sopra, sotto, destra, sinistra E no, sinistra è una lavagna che tra poco farò entrare In questa mail, se stai guardando questo video hai ricevuto innanzitutto un'email o un messaggio su Whatsapp se fai parte della nostra lista Whatsapp Se non fai parte della nostra lista Whatsapp scriviti subito questo numero, lo metto in sovraimpressione qui, qui, ok mi sposto, qui 377-69-42432 memorizzalo sul tuo cellulare e inviami un Whatsapp con scritto nome e regione, basta, nient'altro Da quel momento in poi sarai all'interno della nostra lista offerte Whatsapp La stessa lista che poi hai ricevuto questo messaggio Se mi stai guardando invece perché sei iscritto su Fishing Evolution hai ricevuto questo video tramite mail oppure magari chissà lo stai guardando su qualche social Seguimi, da qualunque parte, ok? Qui sotto, qui sotto, proprio no, qui sotto ai miei piedi, lì sotto, lì sotto al video, al messaggio che hai ricevuto Dovresti trovare un file, il file che ho promesso, che è un Excel, è fatto così, te lo spiego Fai conto che questo è il file Giro un pochettino la lavagna Perfetto, così non abbiamo neanche la luce che rompe le scatole È un file Excel È fatto a colonne e righe Questo file Excel ha nella parte superiore Qui i molinelli Non si vede niente, ottimo Vabbè, te lo spiego, ok? Provo con rosso Qui ha tutti i molinelli che ho presentato Quindi molinello 1 Molinello 2 Molinello 3 E di lato abbiamo tutte le canne che ho presentato Canna 1 Canna 2 Canna 3 Potrai vedere nel file Che non tutte le caselle sono piene Perché la canna 1 magari si sposa bene Solo molte con il molinello 2 Con il molinello 4 Non tutti i molinelli sono per le canne e viceversa E vedrai che alcune caselle sono vuote Vuol dire che questo molinello con questa canna No, non ci sta Questo molinello con questa canna Se ha un prezzo, esempio, 70 euro L'ora ci sta E questo è il prezzo di questo molinello con questa canna Ma attenzione Due cose importanti ho fatto E questo è il motivo per il quale ho ritardato Due cose molto importanti La prima Cliccando sul molinello Proprio sopra Si aprirà proprio il molinello Potrai vederlo Cliccando sulla canna Si aprirà la canna Potrai vederla E già quella Figa no? Come cosa? Così capisci pure di cosa si tratta Inoltre ho già selezionato io I molinelli adatti per le canne Perché dove non trovi il prezzo Ti dico già Guarda non è adatto Ho selezionato io Molinello adatto per la canna Senza che stai lì a cercare A fare tutte le combinazioni Te l'ho già fatto io Il primo filtraggio Ma inoltre In più Oltre a tutto questo Se tu vedi nel file che hai ricevuto Qui Ci sono delle colonne Delle caselle Che sono addirittura Colorate d'azzurro Azzurro Così Con il prezzo Cosa vuol dire? Che quelle colorate d'azzurro Tipo questa con questa Prezzo 99 euro Fa parte della top ten Cos'è la top ten? È una serie di combo Che ho selezionato Perché l'altra sera Mentre facevo vedere i combo Mi sono reso conto Che tanti Erano veramente incredibili Belli Erano proprio perfetti Sai come quando si dice È a morte sua? Così A Roma si dice così E allora mi sono reso conto Che c'erano delle combo Che sono veramente perfette Canne e mulinello Bilanciate per prezzo Per modello Per grammatura Per tecnica E ho selezionato la top ten Le migliori dieci Cosa ho fatto di queste dieci? Te le ho selezionate Innanzitutto colorandoti La casella in azzurro Le vedi subito Ma in più Una cosa innovativa Cliccando sulla casella Quella azzurra Ti esce fuori Andrea Io Un altro Andrea Quello sempre io Ma che ho già registrato Dove ti spiego Ti esce fuori un mini video Dove ti spiego Con la canna e con il mulinello Solamente delle top ten Non è che ho potuto farlo per tutte Però Selezionate Ti piace? Adesso Buon proseguimento Sotto trovi il file E le spiegazioni Te le ho appena date Tu Torni al tuo posto Fammi sapere Qualunque cosa Qualunque combo Vorrai scegliere Non c'è problema Qui sotto Questa mail Ti ho lasciato il numero Whatsapp La mail Su quale Dove potrai Tranquillamente ordinarle Per E contattarmi Ciao